Grazie Presidente, ringrazio anche io tutti gli oratori che hanno parlato perché credo che questa riflessione in questo momento storico sia assolutamente fondamentale, quindi un compito davvero importante è quello di capire come far fronte a questa crisi che investe tutti i Paesi. Ma io credo, come è stato detto anche dal Professor Monti, che al di là della possibilità di cambiare le istituzioni ci si debba prendere carico di un tema che è assolutamente legato alla politica e alla cultura che permette a tutti gli Stati membri di far parte dell'Unione Europea. Per cui credo che il tema del ruolo che la politica ha rispetto alla crisi che stiamo attraversando sia assolutamente fondamentale, quindi credere o illuderci che cambiando o rafforzando le istituzioni si possa frenare questa crisi dell'Unione Europea e non solo dell'Unione Europea penso che sia davvero appunto illusoria. Per cui c'è bisogno davvero di attuare una rivoluzione culturale e politica, ritrovare un senso e le ragioni dello stare insieme in Europa. E questo credo che sia importante soprattutto perché il referendum di cui ha parlato anche il Presidente Brock prima in Italia ha posto tutti gli italiani di fronte a una riflessione importante tra il concetto di governo e il concetto di governabilità. La governabilità presuppone che ci siano appunto dei soggetti passivi che assistono senza avere strumenti per poter decidere e per poter intervenire nei processi decisionali. Governare è un'altra cosa, significa appunto avere delle istituzioni in grado di governare i processi ma soprattutto una politica che sappia assumersi la responsabilità delle decisioni che prende. Per cui io vorrei che ci fossero governi e vorrei che invece si lasciasse da parte il tema della governabilità. E volevo chiudere ricordando che anche noi abbiamo affrontato appunto in occasione della ratifica del SITA il tema appunto del ruolo dei Parlamenti nazionali rispetto alla ratifica di questi accordi misti che hanno un impatto fortissimo rispetto anche alle politiche economiche dei singoli Stati membri. Per cui io credo che invece la possibilità da parte degli Stati membri di poter intervenire su questi processi di ratifica che hanno appunto degli impatti importanti sul piano internazionale sia assolutamente fondamentale anche per garantire quel rapporto di fiducia reciproca che deve esserci. Che non si ottiene a botte di maggioranza o avendo i numeri per poter governare ma convincendo gli Stati membri della bontà delle scelte che vengono fatte. Ecco io credo che solo in questo modo potremo porre argine a esiti anche di ultime elezioni e di ultimi referendum che di fatto sono contro l'establishment proprio perché viene visto e percepito come lontano dai cittadini proprio perché anziché puntare sul governo e quindi sulla possibilità e la capacità della politica di prendere decisioni per il bene di tutti si punta invece sulla governabilità. Chiudo ricordando che l'articolo 138 della Costituzione italiana prevede che se non si raggiungono i due terzi rispetto alla votazione sulla modifica costituzionale ci sia appunto per fortuna il passaggio al referendum messo a disposizione dei cittadini. Grazie.